Non si placano le bordate all'interno del PD Aquilano, in vista delle grandi manovre per le elezioni 2017. Intanto, la voce che sembra la più compatta nell'opposizione in Consiglio Comunale, Noi con Salvini, non perde tempo a sottolineare le contraddizioni evidenti e meno evidenti all'interno del Partito Democratico o in Comune. E' così che il consigliere Daniele Ferella sottolinea che la specialità preferita del PD Aquilano è fare esattamente il contrario di quel che dice. Il PD si lamentava dell'aumento della Tari, dice Ferella, dimenticando di averlo votato solo poche settimane prima. Oggi il presidente Benedetti parla di un cronoprogramma della ricostruzione delle frazioni a suo dire da rettificare. Ma il consigliere Benedetti, dice Ferella, dimentica di aver bocciato, insieme con il suo partito a maggioranza, l'emendamento presentato in fase di discussione del cronoprogramma stesso, che voleva proprio evitare le mani differenze di trattamento tra i cittadini dei numerosi centri storici delle frazioni e quelli della città. Così il presidente del Consiglio Comunale, Carlo Benedetti, già in rotta col suo partito, diventa anche il bersaglio dell'opposizione. Dove era quando proposi l'ordine del giorno per chiedere di creare un capitolo di bilancio comunale per la ricostruzione delle frazioni? Si chiede Ferella. Mi sembra di ricordare che era proprio tra quelli che sghignazzavano della mia proposta. Tra pochi mesi si torna a votare, sottolinea Ferella e dentro il PD. Cominciano le dispute per definire i posti, che dovrà occupare ognuno. Di proposte ce ne sono tante, non c'è bisogno di moltiplicare gli uffici, conclude Ferella. Di quasi 500 milioni di euro.